Un nuovo calendario piscatorio che a partire adesso dal 26 marzo fino al 29 ottobre vedrà la possibilità di avere nuovi numeri anche per i pescatori che potranno in alcune acque, nelle acque di categoria A e di categoria B, ovvero quelle più vicine ovviamente alle fonti, alle sorgenti, diciamo all'inizio, alla montagna, avere la possibilità di pescare e prendere più trote per un totale di 35 trote annue a pescatore. Inoltre stiamo facendo una politica di rilancio dell'incubatoio di Cantiano che purtroppo è stato fortemente colpito dall'alluvione del 15 settembre. Lo stiamo recuperando fondamentale perché dall'incubatoio di Cantiano può partire quel ripopolamento delle trote mediterranee, le trote autocnone tipiche della nostra regione per poi essere successivamente coltivate in altri incubatoi che stiamo costruendo. Quindi c'è veramente un programma abbastanza ambizioso e partiremo da Arquata del Tronto, quindi dall'estremo nord all'estremo sud della nostra regione per creare ovviamente di avere più trote e metterle nei nostri fiumi, soprattutto quelle autoctone, e dare più possibilità ai pescatori di sviluppare la loro passione e la loro attività.